Ciao a tutti ragazzi, adesso faccio un video in cui parlo di Sau e di Borrello, che sono i due attaccanti del Cagliari che dovevano andare via. All'inizio si era deciso così, Sau lo voleva, mi sembra, a Torino, poi si è detto che il Cagliari lo voleva tenere, quindi vuole restare a vita sul Cagliari. Invece per Marco Borrello lo voleva la Lazio, poi Borrello era un po' in bilico perché era destinato a qualche altra parte e il Cagliari già ha provato a contattare la Ternana per Avenatti, però Sau resta, quindi questo è sicuro. Invece per Marco Borrello il rinnovo del contratto è fino a 2019, quindi ce l'abbiamo perché io sono del Cagliari, come voi sapete, per altri quattro anni, no, no, per altri due anni, che dico, siamo nel 2017, quindi per altri due anni o un anno e mezzo ce l'abbiamo con noi, che è forte, ha fatto 15 gol, quindi non è che ci spudere sopra, quindi Marco Sau è rinnovato, Borrello è rinnovato, Io Pedro lo voleva la Juventus, ma noi, cioè non si sa se se lo prende la Juventus oppure resta, Farias lo voleva a Milan, quindi vi terrò sempre aggiornati sulle notizie del Cagliari, mettete un bel mi piace, se volete le notizie di qualsiasi squadra, comincio questa serie, parlarvi delle notizie di qualsiasi squadra di serie A, quindi se volete un nuovo video sul mondo del calcio, questa è una serie su tutto il mondo del calcio, su tutte le notizie di calcio mercato, però in questo primo video del canale del miglioramento ho voluto portare il Cagliari, perché come sapete io sono del Cagliari, poi se volete porto anche altre squadre, quindi mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, vi terrò aggiornatissimo su tutte le notizie, ci vediamo domani, giusto, con un nuovo video perché dopo al giorno, alle due e mezza tre lo carico, bella.